Vi è mai capitato di avere di fronte la scena perfetta, scattare una serie di fotografie e rendervi conto che non riuscite a catturare quella scena così come la vedono i vostri occhi? Vi è mai capitato di tornare a casa e scoprire che le fotografie che avete scattato non erano come le volevate e non avete saputo trovare una soluzione? Ebbene, oggi vi mostrerò una soluzione che utilizzano tutti i fotografi professionisti per migliorare le proprie immagini e tornarsene a casa con una fotografia che sia degna di questo nome. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia, ho promesso un po' di tempo fa che avrei fatto un video sull'utilizzo dei filtri, ebbene quel giorno è arrivato. Dobbiamo ringraziare Freewell che mi ha offerto, oltre alla possibilità di collaborare con loro provando uno dei loro kit, mi ha offerto anche l'occasione migliore per portarvi questo tipo di contenuto, durante il quale andremo a vedere che cosa sono i filtri ND e a che cosa servono e che cosa sono i filtri polarizzatori e a che cosa servono. Per questo motivo vi consiglio di rimanere fino alla fine perché ne vedremo delle belle. Innanzitutto lasciatemelo dire, la case con cui mi hanno mandato il kit è veramente molto bellina, ve la metto qui così spero che riusciate a vederla. Si tratta di un case che contiene il pezzo principale, ovvero il filtro V2. Come potete vedere il filtro è questo, adesso se io vado a girarlo dovreste riuscire a vedere molto nettamente che l'immagine si scurisce all'interno del filtro e questo perché sto utilizzando il filtro ND variabile. Dunque che cos'è un filtro ND variabile? Fondamentalmente è un filtro che serve a tagliare la luce in entrata nella nostra fotocamera. È lo stesso filtro che sto montando sulla videocamera con cui faccio le mie riprese. Ho già spiegato in un video precedente a che cosa serve questo filtro. Noi possiamo andare a scurire l'immagine per due motivi per come la vedo io. Il primo motivo è che stiamo facendo video e se stiamo facendo video abbiamo la regola dello shutter angle quindi non possiamo giocarci tempi per gestire l'esposizione. Magari vogliamo tenere gli ISO esattamente a un determinato valore. Per esempio io sto girando a ISO 800 perché è il valore nativo del profilo colore log della mia camera. Inoltre io voglio girare f1.8 perché voglio sfocare lo sfondo. Ecco che in questo caso capite bene che non posso usare i parametri per cambiare l'esposizione perché i miei parametri sono fissi. Io devo avere quei parametri lì per ottenere esattamente l'immagine che vedete. Ecco che un filtro come questo viene in mio soccorso perché io ruotando posso andare a variare l'esposizione senza toccare i miei parametri. Questo è il primo caso in cui può tornare utile un filtro come questo. Il secondo caso è a mio parere se vogliamo fare esposizioni lunghe. Quando vogliamo creare quelle fotografie con l'effetto mosso nelle nuvole o magari l'effetto seta sull'acqua se lo facciamo di notte un espediente come questo non ci serve perché è già buio e quindi chiudendo un pochino il diaframma possiamo allungare l'esposizione tenendo gli ISO bassi e ce la caviamo. Ma cosa succede se lo vogliamo fare di giorno? Ecco che di giorno non ci riusciamo e un filtro ND è l'unico modo con cui possiamo riuscire a ottenere questo tipo di effetto. C'è un'ultima casistica che vi butto dentro che mi è venuta in mente adesso e quella casistica è mi è capitata di recente studio fotografico voglio scattare con una grande apertura per sfocare lo sfondo di uno studio ambientato ma voglio utilizzare i flash. Ecco che nuovamente un filtro ND mi permette di tagliare la luce in entrata però senza sforare la velocità di sincronizzazione del mio flash e senza chiudere il diaframma e senza modificare eccessivamente gli ISO. Quindi è un filtro che può servire a una molteplicità di utilizzi. Dobbiamo essere noi in grado di capire sempre quando vale la pena utilizzare un filtro come questo. Ma ovviamente non è tutto qui. A che cosa serve invece il polarizzatore circolare? Bene questo è un tipo di filtro un po' particolare che serve almeno nel mio caso. Io l'ho trovato molto utile per rimuovere la foschia. Quindi se stiamo facendo fotografia di paesaggio e vogliamo dei cieli più tersi e vividi il filtro polarizzatore circolare è perfetto per riuscire a togliere la foschia e riuscire a catturare un cielo più blu. È anche un ottimo alleato nel momento in cui vogliamo eliminare i riflessi da superfici di vetro o da superfici d'acqua per esempio o anche dalla plastica mentre mi risulta che non funzioni sul metallo. Quindi per togliere i riflessi da cromature di metallo non funziona ma per togliere i riflessi da una vetrina, dal vetro di un automobile o da uno specchio d'acqua per fare una ripresa in cui si vede sott'acqua questo filtro potrebbe assolutamente essere l'ideale. Ora la particolarità di questo kit di Freewell che è uno dei motivi per cui ve ne parlo perché secondo me è un'idea veramente azzeccata è che questo filtro questo quindi piccolino niente di gigante come vedete ha una dimensione assolutamente contenuta questo è un filtro ibrido nel senso che contiene sia il filtro ND sia il filtro polarizzatore. Come funziona tutto l'ambaradan? Noi qui abbiamo due anelli abbiamo la possibilità di girare due anelli uno per la polarizzazione e uno per il filtro ND quindi possiamo gestire indipendentemente il grado di polarizzazione che vogliamo e il grado di densità variabile che vogliamo introdurre nelle nostre fotografie. Questa è veramente un'idea vincente a mio parere e questo lo rende il primo filtro secondo me che dovreste avere in mente quando volete approcciare questo tipo di fotografia o di riprese video perché con l'acquisto solamente di questo kit praticamente avete tutto quello che vi serve ci vorrà magari qualcos'altro dovrete poi magari andare a dotarvi di filtri ulteriori più particolari per esempio questo è un ND variabile da 3 a 7 stop se vi serve uno stop come per esempio il mio caso io sulla videocamera in questo momento sto montando un filtro con uno stop di ND se vi serve uno stop o se vi servono 15 stop questo da solo non va bene potete prendere degli ND ulteriori da montare a catena però questo da solo non ha la densità sufficiente però è un ottimo punto di partenza perché comunque ci permette di cominciare di capire in che direzione muoverci e di fare la maggior parte delle cose che vogliamo fare in realtà perché da 3 a 7 stop è un punto di partenza perfetto con cui possiamo fare praticamente tutto. Attenzione però le sorprese non sono ancora finite qui adesso io vado a dotarmi di una fotocamera un accessorio che come potete immaginare nel mio lavoro spesso mi capita per le mani andiamo a rimuovere il coperchio e andiamo a rimuovere il paraluce perché per il montaggio il paraluce va rimosso e questo va detto non può nemmeno essere rimesso perché una caratteristica di questo particolare filtro questo filtro viene solamente nel diametro di 82 mm perché 82 mm la scelta è assolutamente ragionata perché 82 mm è probabilmente il diametro più grande che possiamo trovare nel mercato consumer prosumer e anche professionale sono veramente poche le ottiche che hanno un diametro maggiore di 82 a me ne vengono in mente non me ne viene in mente nessuna con un diametro maggiore di 82 o meglio mi viene in mente un fisheye di nikon che ha un diametro sembra una padella tante grande però c'è un però quell'obiettivo non può montare filtri a vite quindi sarebbe inutile per il 98 per cento dei diametri in commercio questo filtro va assolutamente bene la soluzione di freewell ovviamente è di andare a usare un anello adattatore che adatta questo filtro a tutti i diametri inferiori quindi questo qui è da 82 io qui ho un 77 ed ecco che freewell mi fornisce di un adattatore da 77 mm ora ovviamente quello che faremo è che andremo a montare il nostro anello adattatore andiamo a girare molto molto piano non deve fare resistenza vedete io l'ho montato con un dito quindi non deve fare nessunissima resistenza e entra così da solo se l'abbiamo messo bene ovviamente ora noi abbiamo il nostro obiettivo con uno spessorino in più perché questo è un adattatore da 82 a 77 quindi è più largo e questo ci impedirà di rimontare il paraluce però poco male a questo punto e qui viene secondo me la vera genialata perché al di là del fatto che sia un due in uno che già è molto bello ma la genialata è l'attacco magnetico ovvero io ho dovuto avvitare il mio adattatore una volta ma una volta che ho avvitato questo e posso anche lasciarlo così il resto del kit è magnetico quindi vedete con un semplice click io posso toglierlo e metterlo è comodissimo il grado di magnetismo è perfetto perché fa sì che non cada quindi posso giocarmela tranquillamente e non cadrà mai però non è neanche troppo duro da togliere a questo punto il dispositivo si usa in questo modo io posso girare tutto quanto il kit e lo giro in senso anti orario perché se vado a girarlo in senso orario se non ho stretto bene la vita dell'adattatore posso andare a smontarlo invece se io giro solamente in senso orario in questo modo sto utilizzando il polarizzatore posso andare a decidere il grado di polarizzazione che voglio per la mia foto una volta che ho stabilito il giusto grado di polarizzazione che voglio per la mia foto quello che faccio è che vado a stringere queste vitine ci sono due vitine una sopra e una sotto io vado a stringerle entrambe in maniera tale che adesso il mio polarizzatore è bloccato a questo punto posso andare ad agire sulla rotella principale e quindi andare a gestire la densità del mio filtro nd in pratica con questi due sistemi gestisco separatamente il grado di polarizzazione e l'esposizione della mia scena ulteriori genialate o comunque cose carine che ti mettono nel kit che mi sento di segnalarvi se noi abbiamo montato tutto questo kit non siamo nemmeno tenuti a smontarlo tutte le volte perché abbiamo un cap magnetico quindi questo tappo con anello l'anello serve per rimuoverlo noi possiamo andare a montare sto cap magnetico sul frontale e la nostra fotocamera è pronta per essere trasportata in questo modo non abbiamo bisogno di rimuovere ogni volta tutto quanto il kit quindi possiamo tranquillamente portarla in giro semplicemente così allo stesso modo abbiamo anche un secondo cap magnetico e questo serve nel caso noi andiamo a rimuovere il nostro kit e vogliamo riporlo ecco che in questa maniera andiamo a tappare sia davanti sia dietro e abbiamo modo di mettere il nostro kit riposto semplicemente in una borsa al riparo da qualsiasi tipo di polvere infiltrazione o qualsiasi altra o graffi o qualsiasi altra cosa perché abbiamo due tappe magnetici che si vanno a piazzare automaticamente e sono belli tosti da rimuovere quindi questo non si apre da solo in zaino facciamo due considerazioni sui filtri in generale su questo prodotto in particolare quando possono servire i filtri i filtri a mio parere servono quando stiamo facendo paesaggistica quindi se stiamo facendo un bellissimo tramonto piuttosto che un paesaggio idilliaco avere in borsa una cosa come questa può essere un ausilio importante per una serie di motivi magari c'è un corso d'acqua e vogliamo ottenere l'effetto seta con il filtro ND possiamo ottenere questo effetto magari abbiamo un po di foschia e vogliamo rimuovere questa foschia dal cielo per avere un cielo più vivido il filtro polarizzatore può essere esattamente quello che fa al caso nostro con una combinazione di questo tipo come vedete di spazio ne occupa veramente pochissimo abbiamo entrambe le soluzioni sempre nel nostro zaino venendo alle considerazioni su questo filtro nello specifico devo dire io conoscevo il brand freewell ma non avevo nessun filtro di questo brand quindi questo è il primo filtro che mi viene in mano la mia prima impressione devo dire che comunque è di un prodotto costruito bene perché le finiture mi sembrano assolutamente di livello non è un oggetto fragile non è un oggetto di quelli che si rompono col primo utilizzo anzi mi sembra ben costruito e freddo io sento freddo dappertutto quindi sia le ghiere sia i coperchi sono di metallo quindi ha una costruzione assolutamente buona la cosa che mi ha voglio dire stupito perché comunque io parto con un feeling positivo e poi semmai vengo smentito su queste cose però la cosa che mi ha lasciato molto soddisfatto è che questo sembra essere un filtro che non introduce una variabile cromatica quindi a me è capitato molto spesso in vita mia di realizzare delle fotografie con dei filtri scadenti perché i primi filtri che ho preso in vita mia erano scadenti ho fatto degli esperimenti ho preso dei filtri alla buona ho provato a utilizzarli il risultato era molto scadente nel senso che mi permetteva di ottenere il risultato nella fattispecie l'acqua mossa però introduceva una variante cromatica molto difficile da eliminare le mie fotografie diventavano tutte effetto seppia color terracotta quindi poi era molto difficile andare a ripristinare i colori veri devo dire che con questa soluzione non riscontro minimamente questo problema i colori rimangono quelli che dovrebbero essere quindi abbiamo veramente un effetto di polarizzazione che include anche certi colori certo però non introduce una variabile cromatica indesiderata e cosa ancora più sorprendente con 3 barra 7 stop di filtro nd anche lì tra le due estremità quindi tra il 3 e il 7 non riscontro delle differenze cromatiche degne di nota ci sarà un minimo di differenza però veramente a occhio nudo io non la percepisco e guardando le riprese che ho fatto in post produzione non la percepisco non mi rendo conto di uno shift cromatico quindi da questo punto di vista devo dire che il filtro performa veramente bene assolutamente promosso e arriviamo all'eterno quesito io lo so che ve lo state domandando dall'inizio del video si possono usare i filtri si devono usare i filtri mettere un filtro quindi un vetro aggiuntivo davanti al nostro obiettivo pagato fior di euro è una cosa giusta è una cosa buona i professionisti lo fanno lo consigliano allora ragazzi ovviamente è una scelta personale tenete sempre conto che in fotografia tutto è compromesso anche i professionisti fanno dei compromessi io faccio un compromesso tra la strumentazione che vorrei e se dovessi prendere quella spenderei 50 mila euro l'anno e la strumentazione che posso permettermi qui stiamo facendo un compromesso tra il riuscire a catturare una fotografia con determinate caratteristiche e il non riuscirci perché senza filtri l'effetto seta di giorno non lo facciamo senza filtro polarizzatore il cielo cristallino anche in una giornata con un po di foschia non lo catturiamo quindi si tratta sempre di fare una scelta è possibile che inserendo un filtro andiamo a rinunciare a un po di nitidezza è possibile che andiamo a rinunciare a un po di definizione che poi però possiamo recuperare in post produzione questo va detto è altresì possibile che magari riusciremmo a ottenere l'effetto desiderato anche lavorando in post produzione è possibile possiamo fare l'effetto seta finto in post produzione possiamo andare a lavorare di pennelli e scurire il cielo in post produzione però questo ci porta via un sacco di tempo e noi magari abbiamo fatto una grande mole di foto e quindi non possiamo non vogliamo metterci lì a lavorarle tutte perdendo un sacco di tempo a quel punto è meglio investire su un filtro magari stiamo rinunciando allo 0,1 per cento della nitidezza però ci stiamo portando a casa una fotografia che è già più pronta esistono anche dei contesti invece in cui il filtro è assolutamente indispensabile e questi a mio modo di vedere sono le riprese video nelle riprese video se vogliamo mantenere la regola dello shutter angle dobbiamo per forza utilizzare un filtro nd spesso variabile infatti per esempio io sulla mia videocamera con cui faccio le riprese ho sempre montato un nd variabile perché comunque questo è il modo di fare video non si usano più i parametri per fare l'esposizione ma si usa un filtro nd variabile perché è la soluzione migliore esistono anche dei casi in cui siamo costretti a utilizzare un filtro polarizzatore circolare vi faccio un paio di esempi se stiamo fotografando un orologio per esempio la luce si riflette sul quadrante in maniera indesiderata col filtro polarizzatore andiamo a rimuovere parte di quel riflesso indesiderato stiamo fotografando un'automobile stessa cosa possiamo togliere parte dei riflessi dalle parti in vetro stiamo facendo fotografie naturalistiche dobbiamo fotografare dei pesci sott'acqua andiamo a rimuovere il riflesso sulla superficie dell'acqua questi sono casi in cui non possiamo cavarcela in post produzione sono letteralmente casi in cui senza filtri siamo spacciati quindi compromesso nel senso che il compromesso è tra riuscire a fare la foto o non riuscire a farla e quindi magari noi decidiamo di sacrificare un pelino di nitidezza mettendo sì un filtro davanti al nostro obiettivo decidiamo sì di sacrificare il paraluce perché non possiamo più montare il paraluce quindi è sempre un compromesso però qui si tratta di riuscire a catturare l'immagine e si tratta anche di riuscire a farlo con stile e stando tutto sommato abbastanza comodi perché questo a calamita con un semplice movimento della mano si può mettere e togliere e regolare altrettanto facilmente vi lascio ovviamente i link relativi a questo prodotto nella descrizione vi segnalo anche che freewell mi ha omaggiato anche di un altro filtro di cui parleremo però in un video dedicato che sarà a parte fatemi sapere se questo tipo di espediente incontra il vostro gusto e se vi interessa vedere altri contenuti in cui andiamo più nello specifico a vedere come si utilizza sul campo questa strumentazione alla prima occasione cercherò di realizzare qualcosa apposta per voi amici è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi io e freewell vi diamo appuntamento al prossimo video iscriviti al nostro canale